e buona prima ragazzi sono da greco oggi sono presenti e sono qui nel prossimo video sempre sul tool manager anche quest'oggi vi andrò a mostrare una tattica come ho fatto in uno dei precedenti video dove avevo testato un modulo che funzionava nel database precedente all'ultimo aggiornamento di fm anche quest'oggi sono andato a testare un modulo che funzionava bene nel 21.2 per capire se potesse essere ancora utilizzato e tengo a precisare anche che come detto in ogni mio video scorso sto utilizzando l'ultimo database aggiornato presente nella pagina di fm scout che vi invito a seguire perché sono uno dei migliori fonti che trovate all'interno del web su fm tant'è che il modulo l'ho preso da loro mi sembra diversi mesi fa quindi se vedete dei trasferimenti che sono avvenuti nella realtà in nella sessione di mercato estiva e che su fm non sono ancora stati fatti perché normalmente c'è la versione con le rose e l'ultimo mercato quindi quello di gennaio 2021 è per il semplice motivo che sono andato io a mettere all'interno dell'editor data questo database non mi voglio dilungare troppo il modulo l'ho testato con l'atletico di madrid perché guardando le caratteristiche e i ruoli che c'erano in questo modulo appunto ho pensato che la squadra migliore o comunque con i giocatori che potessero interpretare nel miglior modo possibile questi ruoli fossero atletico di madrid tant'è che abbiamo dominato il campionato spagnolo sono stato praticamente primo dalla nona giornata fino alla fine il vostro la classifica abbiamo vinto 28 partite ne abbiamo pareggiate otto ne abbiamo perse solo due facendo quindi 92 punti abbiamo segnato 81 gol e ne abbiamo subiti 23 siamo quindi il miglior attacco e non la miglior difesa perché ce l'ha il valencia tuttavia siamo quelli con la miglior differenza reti a livello di statistiche generali abbiamo Moussa Dembélé che è stato il capocannoniere della stagione con 27 gol Moussa Dembélé tra l'altro non era nemmeno titolare l'avevo preso per sostituire Suarez però si è dimostrato molto valido come giocatore dimostra le statistiche 27 presenza da titolare e 19 da subentrata ha fatto 27 gol e 3 assist con un xg di 16,7 inoltre quello che ha ottenuto anche il voto migliore più alto con 7,22 saul ha ottenuto il maggior numero di assist Neuen Perez è stato quello con la migliore percentuale di passaggi completati del 96 per cento Moussa Dembélé è stato inoltre più volte l'uomo partita Jimenez ha preso 14 ammunizioni mentre Correa, Felipe, Llorente e Luis Suarez un'espulsione di questi per la prima volta su FM ho visto come dinamica la gomitata tant'è che sia Correa che Suarez hanno tirato una gomitata e sono stati squalificati per tre partite a livello di competizione è andata benissimo perché abbiamo fatto il triplete abbiamo vinto il campionato spagnolo abbiamo vinto la Champions battendo per 4 a 1 il PSG abbiamo vinto la Coppa del Rey devo ammettere che pensavo che la finale di Champions terminasse con il 4 a 1 per il PSG perché arrivati all'ultimo mese la squadra davvero molto stanca quindi solitamente quando succede questo non si ha poi il tempo di far recuperare al meglio la condizione ai giocatori e quindi pensavo che la finale di Champions la perdessi invece fortunatamente l'abbiamo vinta anche meritando il modulo di per sé è un 4 4 2 io mi sbilancio nel dirvi che il 4 4 2 secondo me è il modulo più forte che c'è su fm da quando ho iniziato a giocarci io quindi fm 17 francamente fm difficilmente ha trovato moduli più forti del 4 4 2 tant'è che secondo me il 4 4 2 di Ferguson l'anno scorso era il modulo più forte che sia mai esistito su fm quindi io sono un grande amante di questo modulo all'interno del gioco meno in real life perché il 4 4 2 ha bisogno di interpreti ben specifici e andiamo a vedere dal punto di vista tattico è un modulo che francamente non ha molto senso perché avendo due ali d'attacco che arrivano fino in fondo alla fascia e dei fluidificanti dietro tendono a pestarsi i piedi sulla fascia eppure funziona come come modulo inoltre avendo un ccq che tende a salire e stiamo di difendere solo a uno in mezzo al campo con ciò il modulo è un portiere libero con compiti difensivi che ha corri meno rischi e contrasti più duri il fluidificante destro a passaggi corti crossare dalla linea di fondo tirare di meno più pressing e contrasti più duri il terzino fluidificante di sinistra a passaggi corti crossa dalla linea di fondo tira di meno gioca più stretto più pressing e contrasti più duri entrambi i terzini hanno compiti di supporto mentre i difensori abbiamo due difensori che impostano con compiti difensivi con istruzione passaggi corti sulle fascia abbiamo due ali d'attacco con il compito di fare più pressing in mezzo al campo abbiamo un regista arretrato di supporto con il compito di più pressing e abbiamo un ccq di supporto senza alcuna istruzione in attacco abbiamo la punta completa che non ha istruzioni e l'uomo d'area con il compito d'attacco che ha più pressing veramente come vedete è un modulo dove servono interpreti ben specifici tant'è che in attacco serve una punta completa che crea il gioco e un uomo d'area che sostanzialmente la butti dentro come mentalità abbiamo positiva in possesso abbiamo ampiezza abbastanza larga e parte palatra dalla difesa cercando le sovrapposizioni a sinistra e a destra e ha uno stile di passaggi standard un ritmo di gioco altissimo cross bassi che funzionano tantissimo quest'anno portare il pallone in area di rigore affronterà difesa palla al piede vi dico anche che questo modulo è molto abile nel gestire il risultato tant'è che mi capitava spesso soprattutto verso la fine del campionato dove dove gestire risultati perché dovevo portare a casa i tre punti sostanzialmente mi capitava che facevo l'uno a zero mettevo perita di tempo a volte e riuscivo a portarlo liscio fino alla fine o quantomeno verso la fine riuscivo a fare anche il 2 e il 3 e il 4 a 0 in transizione abbiamo fare pressing a tutto campo contropiede passarla ai terzini e lanciarla a lunga in fase di non possesso invece abbiamo una linea di pressing molto più alta una linea della difesa standard si bloccano le vie centrali quindi si difende stretti si fa pressing estremo impedendo i passaggi corrido al portiere e facendo contrasti aggressivi vi mostro anche il calendario così vi faccio anche vedere quanti gol abbiamo fatto nei minuti finali partendo proprio dal civile ad esempio abbiamo segnato all'ottantaquattresimo scorrendo andiamo notare che contro osasuna abbiamo segnato all'ottantaduesimo contro lille all'ottantasettesimo io tengo dall'ottantesimo in poi contro la dinamo chiave all'ottantacinquesimo contro la real sociedad al novantottesimo tra l'altro con l'espulsione di suarez che poi se riesco ve la faccio anche vedere così se non avete mai visto la dinamica della gomitata la potete notare contro l'espagnol abbiamo segnato al novantaduesimo contro lille al novantacinquesimo contro real all'ottantaduesimo contro betis all'ottantaduesimo contro melilla abbiamo segnato all'ottantaseiesimo contro saltavigo all'ottantaduesimo contro valenza al novantatresimo contro siviglia al novantaduesimo e all'ottantesimo contro siviglia all'ottantottesimo contro barcelona all'83esimo, contro il Levante al novantesimo, contro il Villareal all'82esimo e al 92esimo, contro la Juve all'89esimo, contro l'Elce all'89esimo, contro la Real Sociedad all'83esimo, contro il Siviglia all'80esimo, contro il Chelsea all'89esimo, contro l'Alaves all'81esimo e all'85esimo, contro il Betis al novantaquattresimo, contro il Real all'86esimo, contro il Granada all'85esimo e al novantatreesimo e poi basta, quindi se fate il conto abbiamo fatto una valanga di gol nei minuti finali. Vi faccio anche vedere qualche highlights, vi dico già che il pregio come avete visto è quello di riuscire a segnare bene o male nei primi minuti, riuscire a mantenere il risultato e poi nei minuti finali abbattere completamente le speranze avversarie, come contro, adesso se vi trovo qualche partita ve lo mostro, centralmente si lascia qualche buco di troppo, in più in Liga ogni tanto si vanno a concedere dei lanci lunghi dove vanno a superare la difesa. Vi mostro innanzitutto l'espulsione di Suarez, questa è praticamente l'espulsione, siamo al novantaquattresimo più o meno, Oblak esce la fassua, Suarez va a tirare una gomitata a Montréal. Per quanto riguarda i gol vi mostro ad esempio la partita vinta 4-1 in finale di Champions, chiaramente contro il Paris Saint-Germain dei sogni. Il primo gol nasce con un'avanzata di 3 piedi sulla faccia destra, Saúl trova l'imbucata e Dembélé la mette in mezzo a due difensori del Paris. Paris che accorcia con Paredes che scambia con Vinaldi un Bappé a larga e Hakimi tutto solo sulla faccia, al 34esimo la va a pareggiare. 48esimo, Koke batte un calcio ad angolo, Mares stacca da solo. Sempre da calcio piazzato, Koke questa volta sul secondo palo la lancia a Felipe. Ultimo gol, Koke allarga per Shaw che entra in area di rigore, cross in mezzo, Suarez fa il tapin vincente. Qui vero o male non si sono viste le lacune, lacune che si sono notate ad esempio nella partita contro il Real. Passiamo in vantaggio nuovi, praticamente Saúl allarga, De Paul la mette dentro di testa e Suarez la va. inserire in rete. Odriozola, Olegar la mette in mezzo, Benzema porta con sé il numero 2 ma non riesce a chiuderlo. Questo è il lancio che va a passare la difesa che vi dicevo prima. Infine noi troviamo il pregio all'86esimo con Carrasco che la dà alla sponda a Condogbia che con il sinistro la insacca. Vi mostro un'ultima partita contro il Liverpool, così vedete anche qualche buco centrale. Il Liverpool che su FM è sempre complicatissimo battere. Qua Salah la butta in mezzo Gomez, la fa rimbalzare praticamente davanti a Oblak e quindi non riesce a fare una parata fluida. Qua Anderson lasciato completamente libero la va a insaccare. Il Liverpool poi firma il gol del 3-0 con Salah sulla fascia. La cambia, Manet in posizione più centrale rispetto alla fascia, anche lì lasciate da solo. Tentiamo di accorciare le distanze con un lancio lungo verso Suarez che la insacca e il gol finale del 2-3 Suarez l'allarga. Trippier sulla fascia, cross in mezzo ancora per Suarez. Come vedete, come vedete, stavo dicendo, l'area è sempre ben occupata dagli attaccanti. Anche perché, avendo una tattica del genere dove si vanno a utilizzare le fasce, serve comunque che dentro l'area di rigore ci siano degli attaccanti. Con ciò, il video è terminato. Se provate la tattica che cercherò di mettervi all'interno della descrizione, fatemi sapere come vi trovate, se avete dubbi o perplessità lasciatemi qualche domanda nei commenti e cercherò di rispondere il prima possibile. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un bel like, commentate con il video, non ci vediamo in un secondo video, nominate lei e bella rega. Grazie a tutti.